Questo è mio fratello Davide, la nostra scommessa. Ah, che bel ragazzo. Di grazie. Sai, Laurice, sto pensando di trovarmi un lavoro mio. Tipo che lavoro? Barista. Barista è otto. Vuole fare il barista! Perché con quei due biglietti non andate a Barcellona. Dove credete stare a Disneyland? Ah, il football, eh? Eh, il football fanquismo. È bello. Siamo capi. Un paio a casa. Ti penso che... ...deveria venire con me? Che cazzo sono dovuto fare qui? Davide, dove stai? Dove stai? Andy dorme? È andato al sud. Come al sud? È andato a vedere gli acciai. Anche la chitarra gli interessava. Sai quante volte l'ha suonata? Tre! Ma lo so, tuo fratello, che sei gay. Chi sei impazzita? Sarebbe capace di portarmi dall'esorcista a quello. Tu che cosa sei? Un attivista? Un ecologista? E come vi finanziate? O rapine, scippi? Senti, fai finta di essere in gita. Scada due foto e non romperi i coglioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.